Se non volete soltanto ascoltare la musica ma volete vedere delle bellissime immagini, il secondo pacchetto fa al caso vostro. L'Iscio ed Intorni, che è una compilation di video di una volta dagli anni 80 agli anni 2000. Il DVD Amica Vera, video live registrato, pensate alla Cade il Ballo di Ravenna, da tre grandi artiste tutte assieme. Parliamo di nomi eccellenti come Roberta Capelletti, Elena Camarone dell'Orchestra Castellina Pasi e la grande Patrizia Ceccarelli. E anche in questo caso c'è un bellissimo regalo che è un mini DVD di latino americano. Anche questi pacchetti arriveranno a casa vostra a sole 39 euro, comprese spese di spedizione e di contrassegno. Il regalo per questi pacchetti, pensate, è un regalo realizzato apposta per voi. Ho realizzato le mascherine di prossima fermata a Liscio. Potete usarle sia in un modo che nell'altro. All'interno c'è il tessuto TNT per proteggervi. Ovviamente non sono un ausilio medico, ma sono per proteggervi personalmente. Le potete lavare in lavatrice quante volte volete. E guardate che meraviglia di colori. Le ho realizzate appositamente per regalarvele all'interno di questi pacchetti di CD. Quindi uniamo l'utile al dilettevole. Aspetto quindi che mi telefoniate per avere a casa vostra la musica dei nostri grandi artisti. Direi che ne avete di scelta a disposizione. Ricordo solo 39 euro, tre bellissimi DVD e in più le nostre bellissime mascherine in regalo. Firmate prossima fermata a Liscio.